Buon pomeriggio a tutti i gentili telespettatori, benvenuti alla visione del nostro telegiornale. Esattamente un mese fa era il 19 maggio, era un sabato come ricorderete, l'esplosione dinanzi all'istituto Morvillo Falcone a Brindisi, erano le 7.42 circa, la morte di Melissa Bassi, il ferimento delle sue amiche, le indagini che portarono poi all'arresto di Giovanni Vantaggiato, la sua prima confessione, una seconda confessione su un altro attentato del 2008 che è stata registrata dai magistrati inquirenti proprio nella giornata di ieri. Ma non vogliamo oggi parlare dell'inchiesta, delle indagini, vogliamo dedicare l'apertura del telegiornale a Melissa Bassi, con le tante iniziative in sua memoria organizzate proprio nella giornata odierna. Partiamo da questa mattina quando nel Duomo di Brindisi Monsignor Rocco Tavucci ha celebrato una messa di trigesimo per Melissa Bassi, come dicevamo ad un mese esatto dall'attentato che la uccise, dinanzi all'istituto Morvillo Falcone. Vediamo. Un mese fa la morte di Melissa Bassi a causa dell'esplosione messa a punto da Giovanni Vantaggiato sconvolse l'Italia intera. A 31 giorni di distanza si susseguono le iniziative volte a tenere vivo il ricordo della giovane nella mente di tutti. Stamane alle 10 nel Duomo di Brindisi l'Arcivescovo della Diogesi di Brindisi Ostuni, Monsignor Rocco Tavucci, ha presieduto una funzione per il trigesimo della scomparsa della giovane studentessa dell'istituto Morvillo Falcone della città capoluogo. Una messa composta e semplice che con le letture del giorno ha voluto raccogliere una comunità attorno alla preghiera. Il Vangelo di San Giovanni, introdotto dai canti di una rappresentanza del coro polifonico arcivescovile San Leucio, diretto dal maestro Gian Paolo Argentieri, ha accompagnato la riflessione dell'assemblea. Come il padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Recita il Vangelo, su cui si è aperta un'omelia che è invitato a vivere secondo gli insegnamenti di Gesù, maestro di vita. È necessario, ha detto Talucci, andare oltre il visibile, come fanno i cercatori di Dio, che con fede fanno in modo che la tristezza, che occupa grande spazio nella vita di tutti noi dopo la morte della giovane Melissa, ci abbandoni per sentire più vicino a noi Dio. Dopo un pensiero alla famiglia della ragazza, Monsignor Talucci, con indosso la casula bianca, simbolo di gioia, confezionata dagli studenti dell'istituto Morvillo Falcone, ha parlato della giovane Melissa come di una creatura oggi a contatto con la bellezza di Dio, che non va mai fuori moda. L'assenza del suo corpo devasta l'abitudine e i ricordi, ha concluso Talucci, ma deve riempirci di gioia perché Melissa vive in Dio. E subito dopo la messa tutti i partecipanti alla celebrazione si sono spostati proprio presso l'istituto Morvillo Falcone dove si è tenuta un'altra importante cerimonia, quella dell'intitolazione, proprio alla memoria di Melissa, della palestra della scuola. Vediamo anche questo servizio. I giorni passano ma tu sei sempre con noi e questo è il pensiero che la classe di Melissa Bassi ha voluto scrivere sulle pareti dell'istituto Morvillo Falcone di Brindisi e a questo pensiero si unisce anche la scuola intera con una targa che questa mattina è stata scoperta ed è intitolato la palestra della scuola proprio Melissa. Ogni giorno è da quel 19 maggio un momento per ricordare la vittima innocente dell'ordinaria follia umana. Si inseguono ancora nella mente quelle pagine bruciacchiate, zainetti e un tempo cari, buttati nell'incuria del caso, quaderni ancora freschi di sudore, libbia e esibire l'apparente inutilità della parola, ad una qualche speranza nel riscatto della cultura. Era solo ieri, quel 19 maggio, era solo poco fa, un sabato d'ancò l'incerta primavera, piccole cose tra noi, le ultime corse tra le selve di carte, gli ultimi appuntamenti saputi a scuola, le ambasce dei ragazzi per gli esami, per le ultime prove, poi quel boato, come un masso in mano e buttato nell'oceano infinito di tanta nostra malcelata riluttanza a osservare e capire il dolore del mondo. Veronica, squarciata e sfigurata, poi azzurra, Selena, Vanessa, Sabrina, Anna, nostre figlie, inghiottite da una lucida follia nel pozzo nero della tragedia e poi soprattutto Melissa, con ancora l'innocenza negli occhi, lo stupore della prima vita ad aprirsi al nuovo, Melissa dai capelli rossi e con la piccola voce che ancora modula nell'eloquio la donna che sarebbe stata, Melissa, divenuta l'involontaria eroina ad un tempo malato e tragico, in un palcoscenico divenuto mondo, nel quale la sua innocenza diveniva tra l'ora anche disputa retorica e non sempre persuasiva dell'amaro incedere dei nostri tempi. Melissa, alla quale non finiremo mai di unire tanti i nostri pensieri, non fosse altro per provare a discolparci per tanti i nostri silenzi e per il coraggio che sovente ci manca e ancora ci manca, nel provare a pensare, lottare e sperare in un mondo migliore. La scuola che Melissa frequentava con un ottimo profitto le ha voluto dedicare uno spazio. La scelta è ricaduta sulla palestra e il dirigente scolastico Nicola Serratì ha spiegato in questi termini perché è stato scelto questo luogo. A noi docenti la parola palestra indica quell'altra frase che diciamo spesso ai ragazzi che la scuola è la palestra della vita, quindi già questo ci evoca tutta una missione che noi tutti intendiamo e pratichiamo ogni giorno. Un altro motivo è perché la palestra dell'istituto non è frequentata soltanto dagli studenti e studentesse del Morvillo Falcone ma anche del Maiorana che sono al secondo piano e nel pomeriggio da una serie di società sportive che rappresentando il territorio possono in questo modo frequentando la palestra stessa portare non solo nel nostro piccolo e nella comunità scolastica questo messaggio di non dimenticare e di portare ancora i messaggi di solidarietà e di rifiuto della violenza e di esaltazione di tutti quei valori positivi che abbiamo sentito e tutti quanti abbiamo detto e condividiamo in questi giorni ma anche una disseminazione nel territorio con delle componenti che non siano semplicemente quelle scolastiche. Al momento della scoperta della targa erano presenti il vice sindaco del comune di Brindisi Paola Baldassarre, il presidente della provincia di Brindisi Massimo Ferrarese, il prefetto Nicola Prete, il questore Alfonso Terribile e il provveditore agli studi Francesco Capobianco oltre a docenti e alunni dell'istituto Morvillo Falcone. E continuano le iniziative per ricordare la morte di Melissa Bassi ad un mese dalla disgrazia. Nel pomeriggio alle ore 18 presso il teatro comunale di Mesagne si esibirà il coro di voci bianche del teatro San Carlo di Napoli, poi alle 19 sempre a Mesagne Don Antonio Mitrugno celebrerà una messa nella parrocchia di Santa Maria, quindi in serata sempre a Mesagne. Si terrà un concerto organizzato da un comitato spontaneo di ragazzi che hanno ottenuto dal comune il patrocino, la possibilità anche di montare un palco in Piazza Vittorio Emanuele nei pressi di Porta Grande. In quella cornice, dalle 20 in poi, si esibiranno diversi artisti locali e ci sarà l'intervento della coordinatrice dell'Unione degli Studenti di Brindisi, Martina Carpani. Saranno inoltre lette due lettere indirizzate alla vittima dell'esplosione davanti alla Morvillo Falcone, una scritta dal fidanzato Mario, l'altra dalla sua migliore amica Selena Greco, ferita anch'essa nell'attentato e ancora convalescente. Dunque una giornata come giusto che sia, ma non solo questa giornata dedicata a Merissa Bassi. Capiamo a un argomento, parliamo dell'emergenza incendi, purtroppo siamo proprio nel pieno all'inizio della stagione estiva con la criticità che arriva dalle temperature particolarmente calde che in alcuni casi creano per autocombustione, anche incendi come quello che vedete, accaduto questa mattina alle porte della Città Bianca. Siamo incontrate a Rosara, proprio sotto il centro storico di Ustuni, in una zona abitata. L'incendio non era molto vasto, però la particolarità come documentano le immagini sta nel fatto che è allandito proprio delle abitazioni dove via della gente che quindi ha seriamente rischiato quanto meno di essere affumicata dall'incendio che ha distrutto anche olivi secolari. Grazie all'intervento immediato dei vigili del fuoco si è scongiurato un danno ambientale, quantomeno ben più grave, ecco vedete lo sfondo della Città Bianca. E parliamo proprio di emergenza incendi perché nella sala stampa del Presidio Prevenzione e Sicurezza della provincia di Brindisi questa mattina si è tenuta una conferenza stampa. È servita a presentare tutte le attività che saranno attuate per la stagione estiva per far fronte proprio alla piaga degli incendi boschivi. Vediamo. È operativa ufficialmente da questa mattina la campagna antincendio boschivo 2012 in provincia di Brindisi. Gli incendi boschivi rappresentano la causa prevalente del depauperamento del patrimonio boschivo della regione Puglia. Proprio per l'elevato numero di eventi e di superfici percorse danneggiate dal fuoco, la Puglia risulta essere tra le regioni italiane a più alta pericolosità di incendio, che si accentua nel periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre. Ogni giorno saranno operative sul territorio provinciale 14 squadre di volontari per un totale di 42 unità che con mezzi attrezzati svolgeranno sia attività di monitoraggio e controllo nelle aree boschive della provincia e di primo intervento in caso di incendi boschivi e di interfaccia. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprenderanno l'attività di ricognizione, di vigilanza e avvistamento con lo scopo di segnalare tempestivamente l'insorge dell'incendio e il controllo di propagazione del fuoco e lo spegnimento e la bonifica dei territori, il tutto assicurando reperibilità H24 e turnazioni in varie zone del territorio provinciale a bordo di 14 mezzi speciali attrezzati con modulo antincendio e attrezzature specifiche come flabelli, soffiatori e binocoli. Le associazioni che hanno sottoscritto con la regione Puglia un'apposita convenzione per lo svolgimento di attività nell'ambito della campagna antincendio 2012 sono 14 e provengono da Brindisi, Cisternino, Erchie, Fasano, Francavilla Fontana, Mesagne, Oria, Ostuni, Sandonaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico e Torre Santa Susanna. Abbiamo avuto una sorta di battesimo di fuoco con i due grandi incendi boschivi che hanno interessato Ostuni, Cisternino e Fasano qualche giorno fa e che hanno richiesto l'intervento anche dei mezzi aerei della protezione civile nazionale. Sì, sono 14. Da oggi fino al 15 settembre 42 volontari turneranno quotidianamente H24 sul territorio della provincia per garantire monitoraggio, avvistamento, segnalazione e un primo intervento sui focolai. Quali sono gli avvisi che vi aspettate dalla gente, vi aspettate collaborazione? Dalla gente intanto ci aspettiamo collaborazione, ci aspettiamo rispetto dell'ambiente e delle norme e soprattutto segnalazione ai numeri canonici per gli incendi che sono il 1515 per il corpo forestale, il 115 per i vigili del fuoco, ma anche in provincia di Brindisi possono anche utilizzare il numero verde della sala operativa provinciale che è l'800 95 95 94. Quali sono i rischi maggiori per questa estate? Sicuramente gli incendi calamiteranno abbastanza la nostra attenzione, soprattutto nella fascia boschiva a nord che è quella più alto pregio naturalistico, ma non ci dimentichiamo che su Brindisi c'è anche Torre Guaceto, c'è il Parco Nazionale delle Dune Costiere, ci sono anche altri parchi regionali nella zona sud, però se diciamo il discorso lo ampliamo anche gli incendi di interfaccia che sono gli incendi che poi possono potenzialmente creare delle situazioni di pericolo per le abitazioni, allora tutta la provincia è a rischio. Dall'emergenza incendi all'emergenza sangue, abbiamo già anticipato ieri le denunce proprio sulla situazione critica, l'autosufficienza delle emoteche negli ospedali della provincia di Brindisi è veramente ai limiti e ieri nel pomeriggio si è tenuto un incontro presso l'Avis provinciale proprio per discutere di questa problematica, vediamo. La polemica sullo stop subito dalle associazioni volontarie per la raccolta del sangue da parte dell'ASL arriva ad un nuovo capitolo, dopo la preoccupazione la forte denuncia, ieri si è tenuto un incontro in cui le sezioni Avis della provincia Brindisina si sono volute parlare faccia a faccia per decidere una linea comune, la questione è semplice, l'ASL non ha soldi per pagare lo straordinario del proprio personale del centro trasfusionale che coordina le raccolte, garantendo supporto medico e tecnico nelle raccolte itineranti del sangue. Una situazione già denunciata dall'Avis di Mesagne qualche mese addietro e che ora giunge al limite. Dire stop alle donazioni significa mettere fine ad un lavoro di sensibilizzazione capillare verso il gesto del dono, senza considerare che l'ASL, che non paga gli straordinari ai propri dipendenti, dovrà spendere euro su euro per comprare sacche di sangue e plasma che con le donazioni arrivano invece gratuitamente. L'Avis provinciale di Brindis si è vista costretta a convocare una conferenza stampa per denunciare all'opinione pubblica il mancato rispetto da parte dell'ASL di una programmazione delle raccolte festive, stiamo parlando naturalmente di raccolte di sangue, che noi avevamo programmato insieme ai dirigenti dell'ASL e che avevamo sottoscritto. Purtroppo per ragioni che non sono inerenti alla nostra organizzazione ci siamo trovati di fronte a tante difficoltà fino all'annullamento di queste raccolte. La cosa ci preoccupa molto perché siamo alle porte dell'estate, siamo alle porte dell'emergenza estiva e naturalmente un comportamento di questo tipo non ce l'aspettavamo. Noi siamo dei volontari, continueremo a donare il sangue. Io lancio un appello a tutti i donatori perché continuino ad andare a donare il sangue nei centri trasfusionali di Brindisi, Ostuni e Francavilla naturalmente nei giorni feriali. Appoggio pienamente quelle che sono le iniziative della provinciale di Brindisi. In questo momento l'accusa principale non è solo alla ASL ma anche a tutta la regione. Tutto si può dire fuorché che la regione in questo momento sia in grado di programmare nulla. È tutto affidato alle singole iniziative, positive o negative, perché anche questa dobbiamo prenderla come un'iniziativa. Loro non hanno saputo in tanti mesi programmare un bel nulla. Hanno lasciato a noi quello che noi riusciamo a fare senza nessun contributo da parte loro e quando parlo di contributi non parlo certamente di contributi economici. Ieri pomeriggio nel Salone di rappresentanza della provincia si è riunito a Brindisi il Comitato Provinciale per l'Economia e il Lavoro e si è discusso in particolare del patto di competitività e delle bonifiche della zona industriale di Brindisi. In merito vi proponiamo una dichiarazione del Presidente Ferrarese. Presidente, si è riunito il Comitato Provinciale per l'Economia e il Lavoro, si è parlato delle bonifiche alla zona industriale e del patto per la competitività. Quali sono stati i risultati? Finalmente è un Cpel che si riunisce al completo. Oggi abbiamo intorno al tavolo anche l'Asi e soprattutto abbiamo il Comune di Brindisi che non aveva mai partecipato a Cpel. Ci siamo tutti e insieme con grande determinazione abbiamo la volontà di raggiungere gli obiettivi. L'obiettivo è di stare insieme, cercare di trovare le migliori soluzioni per far migliorare sotto l'aspetto economico il nostro territorio, cercare di attrarre investimenti mettendo a disposizione i terreni delle zone industriali a un prezzo politico, stiamo aspettando per il 5 luglio la risposta da parte delle parti sociali, soprattutto dei sindacati, per poter offrire un costo della manodopera più vantaggioso. Noi dobbiamo cercare di attrarre gli investimenti dall'aspetto turistico all'aspetto industriale, artigianale. Per poter fare questo noi dobbiamo rendere competitiva la nostra terra e lo possiamo fare avendo le infrastrutture, avendo le aree retroportuali, avendo nella nostra provincia zone industriali che possiamo dare a prezzo vantaggioso. A questo ci dobbiamo aggiungere una manodopera a prezzo vantaggioso, quantomeno per lo start-up, per i primi 6-7 anni. Ma quello che dico, è meglio avere un 20% in meno per 6-7 anni andando a lavorare, mandando a lavorare i giovani, che tenerli oggi in questa situazione. Io farò di tutto, mi metterò a disposizione dalla mattina alla notte per cercare di far lavorare la nostra gente. Bene, ci fermiamo, la linea va alla regia per un break pubblicitario, a tra poco per tutte le altre notizie del nostro Tg.